Di rispettare le regole proprio non sembra volerne sapere, Fabrizio Corona. E già contravviene alle direttive imposte dai giudici, che gli hanno concesso di lasciare il carcere e curarsi in una comunità contro la sua tossicodipendenza. Di giorno nella struttura terapeutica e di sera dritto a casa senza utilizzare telefono e social o diffondere immagini e rilasciare interviste, queste le prescrizioni da rispettare. Ma il re dei paparazzi, senza comunicare sembra non ci sia proprio stare tentato dalla libertà quasi totalmente conquistata ha pubblicato, o fatto pubblicare da qualche collaboratore, un video sul suo profilo Instagram. Quel retroscena amaro sulla scarcerazione di Fabrizio Corona, ecco cose è successo appena uscito dal carcere. Le parole sconsolate di Silvia provvedi immagini che ritraggono lui al processo, all'uscita del carcere, accanto alla fidanzata Silvia provvedi. Insomma, un medley che riassume le ultime sue vicende personali e con la giustizia con in sottofondo la canzone, estate di merda, di Salmo. Ad accompagnare il video tre parole ripetute spesso nel pezzo, e allora balliamo. Gli utenti che lo seguono sui social si sono come al solito divisi, c'è chi continua a idolatrarne il mito che sfida il sistema e chi invece non sopporta i suoi eccessi. Questa volta, però, Corona non dovrà preoccuparsi di cosa pensa e dice il pubblico ma di come reagiranno i giudici davanti a quella che, oltre a essere un'evidente violazione delle prescrizioni, appare anche come una provocazione bella e buona. In tanti ora si interrogano sulle conseguenze che Rò scaturire dal suo gesto, le porte del carcere Rò riaprirsi di nuovo.